e con viva commozione che stasera vi parlo della commedia che ascolterete dell'abito nuovo la commedia che scrissi con Luigi Pirandelli lui siete! questa commedia mi riporta ai vecchi tempi del 1932 io a questo non lo voglio che ti prende fasi che femmina ti spazzano io voi lasciatelo dire non lo vedete come sono vestito derrobbami derrobbami per forza dovevo andare a finire così avanti mamma la voglio preparare io grazie grazie a tutti